Il virus oramai era un vecchio ricordo, ma l'arma che usammo per sconfiggerlo distrusse tutto ciò che conoscevamo come civiltà. Solo un gruppo di noi sopravvisse, rifugiandosi tra le macerie di quel poco di mondo che restava. Così ci aiutammo tra noi e ci demmo da fare come potevamo. Eravamo soli. Almeno così credevamo.